Musica Noi siamo l'associazione Flamulask di Chiude di Pesio, siamo un'associazione storico-culturale che prende il nome dall'antico nome di Chiude di Pesio, Clusa Quedicitur Flamulaska, è una citazione del XI secolo. Musica Abbiamo all'interno dell'associazione un gruppo storico-celtoligure, Tauta Chebennates, e siamo qui ad Oxabriga oggi come Tauta Chebennates a riproporre l'accampamento e la vita dei nostri antenati-celtoliguri che vivevano in queste terre prima dell'arrivo dei Romani. Musica Abbiamo, qui ad Oxabriga, diviso l'accampamento in due parti. La parte età del ferro, che è normalmente l'epoca di cui ci occupiamo come Tauta Chebennates, e poi abbiamo incentrato un piccolo focus sull'età del bronzo, dal momento che i reperti di Chiude di Pesio sono i reperti del ripostiglio del Monte Cavanero, che sono datati all'età del bronzo. Musica 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 Musica